Carrozzo Vito, Massari Paolo, Abruzzini Domenico e ancora Loreno Pia di Franco Maria e poi alcuni sconosciuti, tra cui anche dei bambini. Sono i nomi, le identità, le storie dei cittadini baresi morti a seguito del bombardamento tedesco del 2 dicembre del 1943. Un evento che ad 80 anni di distanza è stato ricordato nel corso di un convegno ospitato dall'archivio di Stato di Bari, al quale hanno partecipato gli studenti di alcune scuole superiori della città. Fu un bombardamento che coinvolse pesantemente la popolazione civile in un anno in cui la guerra si radicalizzava. Fu pesantemente distrutta la città. Un attacco terribile che non colpì solo il porto di Bari, ma che di fatto procurò una ferita gravissima per tutta la città, che da allora non fu più la stessa. Tutti gli edifici pubblici della città furono ulteriormente requisiti. Gran parte delle abitazioni della città vecchia furono rese ineggibili. Tutta la popolazione fu in fuga nelle frazioni vicine a Carbonara. Individui, storie, avvenimenti che oggi a 80 anni di distanza vengono tolti dal silenzio attraverso un meticoloso lavoro di ricerca. Nelle ultime settimane sono venute fuori in particolare molte notizie relative ai danni subiti da edifici pubblici e privati, e quindi anche notizie relative ad altre vittime, ad altri feriti. E dunque nell'archivio di Stato una mostra, libero accesso per tutta la cittadinanza, per ricollocare i tasselli di questa storia e rinsaldare quel cammino che oggi è percorso dalle nuove generazioni, vere custodi della futura memoria.